Per la sua opera polifonica, un monumento alla sofferenza e al coraggio del nostro tempo è la motivazione con cui l'è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. La giuria del premio Ischia sottolinea invece il suo straordinario lavoro come giornalista investigativa e la capacità di far conoscere al mondo i principali avvenimenti accaduti in Russia nel secondo dopoguerra. La giuria sottolinea in particolare i suoi coraggiosi reportage sui reduci dell'Afghanistan e sulle vittime di Cernopil. Svetlana Alexievich è la migliore espressione di quella libertà di stampa e di opinione a livello mondiale che il premio Ischia celebra in ogni edizione. Grazie. Per finire il premio lo consegna il ministro della difesa Roberto Pinotti. Io intanto vi ricordo che il premio Nobel è stato vinto da Alexievich nel 2015. Il premio Nobel per la letteratura. Grazie.